Oh Cristian ma quanti coca cola bevi? Cioè è vero che sto bevendo una coca cola, è vero che nel video che ho fatto prima, quello di Sfere Basta, è prima video official, non è video musicale, e se tu mi fai questa domanda e vuol dire che l'hai visto, è bravo, bravo, perché è una cosa importante guardare prima e dopo, quindi perché non l'hai ancora visto vado a guardare prima di farmi questa domanda, se no non mi può parlare, non mi può parlare. Dai Jamir, me l'aspettavo io un pezzo da te, vero vero, me l'aspettavo un pezzo da te, comunque, comunque dai, iscrivetevi al mio canale, lasciate un like, sapete già cosa vi chiedo, vi chiedo un piacere quello di guardare tutto il video perché mi mancano, mi manca pochissime ore di visualizzazione per attivare la monetizzazione, quindi datemi una mano a arrivarci, anche se vi annoia il video, non schippate, per favore, lo fate per me, che devo farlo entro due mesi, se no ho ricomesso tutto da capo, devo avere 4.000 ore di visualizzazione tutto da capo, quindi fatelo per me, perché se no voi sono il nero preferito, perché ce l'ho grosso, perché ce l'ho lungo, perché io vi amo, perché io vi amo, perché io porto tutto, faccio tutto per voi, quindi visto che perdo il mio tempo per voi, quindi voi fate qualcosa per me, visto che ho il naso grosso, voi dovete fare qualcosa per me, dai in cambio. Il video di oggi, Jamil, non è colpa mia, dissing, non so chi ha dissato, quindi se sapete chi ha dissato, fatemelo sapere, aspetta, vado in commento a vedere, lo senti lo schiaffone di Metric che ti arriva, non so, la risposta che ti fa attendere, ma altro, Jamil, stavo lavorando, il disco ovviamente, disfatto, la prova, Jamil, mi raccomando, non fare i nomi, Jamil, ok ho capito, boh, vediamo chi ha dissato, non è colpa mia. Se non rispondi a Johnny Gioielli, non sei più il diss king, eh eh eh, sì, mi hanno detto lascia stare, non vale la pena, vuole un po' di promo, tu porta pazienza, mi dissa solamente chi non ha carriera, così frate non rischia di restare senza, la tua roba che fa schifo non la sente nessuno, hai fatto mille dischi e non li sente nessuno, non sei nessuno, goditi la promo, che finisce che ritorni nel dimenticatoio, se parli di diss tengo il monopolo. E poi mi piace di, 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 di sto negro qua, di sto negro qua, chiamo negro, chiamo tutti negro, non usa autotune, è tutto vero quello che fa, eh, Jamil, tutto vero, tutto vero, quindi se sai di sale qualcuno, ha le sue ragioni. E poi mi piace un botto sto commento qua sotto, uno ha scritto, uno ha scritto, la prof, Jamil, mi raccomando, non fare i nomi, Jamil, ok ho capito, non so se fa nomi o no, ma voglio ascoltamelo fino alla fine. Quanta anima sei un segaiolo, vedo che ti atteggi come un donnaiolo, ma c'è solo la tua mano sotto il lenzuolo, fallito di merda. Seguimi le tipe non ti caga nessuna, tu son morto di figa, non ne hai mai vista una, neanche quando sei nato con quella faccia di merda, sarei uscito dal culo e ti han buttato per terra, tu vuoi le attenzioni come una puttana, nel panorama rap pali niente e nada. Quella sarebbe la puttana, sì. Sì. Cazzo! Cosa appena detto? Facciamo le play. Eeeeeeeh! Eeeeeeeh! L'hai confermato, eri al mio concerto, ti vedevo che cantavi sotto il palco. Grupi. L'hai confermato, quello che ha detto, c'era pure Noiz che diceva che spacco. Hai ragione. Tutto pipato, tutto ubriaco, ha rotto il cazzo ad una tipa e il suo fidanzato, che l'ha quasi picchiato, quasi ammazzato, meno male c'era Dune che l'ha salvato. Meno male. Minchia che babbo, minchia che babbo, quando non reggi il colpo meglio non farlo, non stava neanche in piedi e non aveva il passaggio, ho chiesto pure a Danny di accompagnarlo, c'era pure David, puoi confermarlo, era meglio stavi zitto, non puoi negarlo. Ma io non so chi sta di sano, ragazzi, mi fate sapere chi sta di sano, per favore. In bocca tieni il cazzo di Narcos, è una vita che continui a succhiarlo. Eheheheh, sì. Se nessuno ti caga, nessuno ti paga, nessuno ti vuole, non è colpa mia. Non è colpa... Lui non usa l'autotone, i solito a me le suono così. Quello con due voci, che non serve, non serve l'autotone. Mia, un altro scorso di nuovo, qui faccio la promo e non so neanche chi sia. Chi è? Johnny tu sei pacco, 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 pacco. Ah, si chiama...Johnny! Stava dicendo, ma che Johnny, Johnny, quello con la maschera, quello con la maschera? Forse sì, non so. Ti chiamano gioielli, ma i bigiotterie. Johnny tu sei vecchio, vecchio, vecchio. Ti prenderò due cose dalla farmacia. Uh. Ok, ok, faccio un po' di rap, ok, ok. Questo è solo un fake, ok, ok. C'è la gente che mi chiede chi sei, chi è, chi è, chi sei. Chi è? Nessuno che ti vuole, per questo che sei underground. Fai 50 copie, per questo che fai sold out. Era meglio Noitz per fare il secondo round. Tu sei Craxi, tu sei Crusty, il clown. Non ho capito perché mi dissono solo gli scarsi di merda, come Johnny, Gast, Fatte MC, Galla, Traffic, La Yank, Maruego. Vabbè, sono falliti. La Yank. Oh, ma perché? C'è a me, la Yank si sono dissati. Io non ho, sono l'unico che non sa mai un cazzo. Come fate le mie view, i miei soldi, i miei fan, la mia crew. Poi? Il mio rap, le mie skills, il mio mood. Poi? La mia vita, il mio flow, il mio tour. Ok. Ho sognato che fate una poste track. Sì. Intitolati falliti del rap. Oh. Intitolata che merda sta a combo. La collab dei più scarsi del mondo. Tu vuoi il diss, ti do il diss, ti do il diss. Ass Magazine, ti do il bis, faccio un mix, rest in peace, rap is back, già da Kiss. Se nessuno ti caga, nessuno ti paga, nessuno ti vuole, non è colpa mia. Non è colpa mia. Un altro stronzo di nuovo, qui faccio la promo e non so neanche chi sia. Johnny, tu sei pacco. La parte più bella è quella di prima, che era un pazzito. Poi questa parte, non è colpa mia, cioè, faccio promo alla gente che io non so chi sia. Pacco, pacco. Ti chiamano gioielli, ma è bigiotteria. Johnny, tu sei vecchio, vecchio, vecchio. Ti prenderò due cose dalla farmacia. Tu riposi in pace e non mi tocchi nemmeno. Vengo dal cielo come la tempesta, un rapace, un alieno. C'è serpentine, la testa come il logo Versace. Sono efficace come il veleno. Sincero, davvero, davvero. Tu non hai le palle, al massimo è reggiseno. C'ho le palle più grosse di un seno. Tu non hai pene? Tu non hai le palle, al massimo c'è reggiseno. C'ho le palle così grosse, c'ho due palle di fieno. Con le barre ti meno, meglio che parli di meno. Ti uccido, sei scemo. Io sono una verdura, va bene. La melanzana, la zucchina nel culo di queste iene. Tu sei vecchio, tu sei debole, pieno di lamentele. Con la ruggine, la muffa, la polvere, ragnatele. Io sono crudele, mi fai un bocchino gigante. Fino a quando le ginocchia ricoperte di sangue. Dopo ti spacco le anche, ti spaccherò il culo. Ti spacco di rime, ti lascio a digiuno. Non mi spacca nessuno, fanculo. Ma quale dissi, hai rappato due minuti gli altri due parti. Era meglio una storia. Davvero. Soprattutto visto come rappi, era meglio non provarci nemmeno. Sei scarso. Ora sei contento, ti ho risposto, fatti una sega. Scrivi la risposta della risposta. Va bene. Ma ve lo dico. Ora ti ho risposto, fatti una sega, oh mio Dio. Io se fossi un artista, io non disserei mai, c'è, io ci rimanerei male su ascoltare la prima strofa. Non arriverai mai a ascoltare il secondo. Già, con si scarsi basta. Mandate qualcuno di bravo, ok? Uh, con si scarsi basta. Mandate qualcuno di bravo. Ok, ok. Io passo a chiudo perché ragazzi, io a prima di finire questo video la canzone la riascolto di nuovo perché cazzo mi è piaciuto. Johnny, già non so chi sia questo Johnny che lui abbia gissato ma Johnny, mi dispiace ma l'hai preso in culo. Scusa Johnny ma io se fosse Johnny non dormirei neanche stanotte. Non riuscirei neanche a dormire Johnny. A meglio che non... Cioè, lascia perdere Johnny. Johnny, per favore. Johnny, lascia perdere. Perché se tu ascolti sto pezzo non so quanti giorni. Quanti giorni riuscirai a restare la via che ho aperti? O quanti giorni ti rimanerai in testa le cose che ti sta dicendo? Johnny, lascia perdere. Per favore, lascia perdere. Johnny, per favore, lascia perdere. Ok, lascetta un like per il mio amico Johnny. Supportiamo il mio amico Johnny con un like e con un iscritto che non l'ha ancora fatto. Johnny, dispiace ma la vita è bella, vivila dai. Lascia perdere Johnny perché ti ha messo un dito nel culo. Talmente così profondo che forse per tirare fuori ci vuole un cazzo del negro che c'era nel video. E trippio. Quindi Johnny, lascia perdere. Quindi sopportate il mio Johnny con un like e con un iscritto. Johnny, per favore, la Johnny lascia perdere. Te l'ha messo. Se sei il pezzo di Johnny, dissing di Johnny, ragazzi, fatemelo sapere nei commenti. Oppure giratemi su Instagram, ci vedete un altro video. Lasciate un like per il mio amico Johnny. Iscrivetevi per il mio amico Johnny. Commentate per il mio amico Johnny. Giratemi la sposa di Johnny in casa.